Siamo a circa 30 metri, 50, dal centro Aghimi di Maglie. In lontananza si vede anche la strada statale 16. Tra i rifiuti che possiamo incontrare, riscontriamo fusti di palma abbattuti per la presenza del punteruolo rosso. Il corretto sbaltimento costa alcune centinaia di euro per ogni fusto di palma. Qualcuno invece ha pensato bene di risparmiare queste somme venendo a gettare qui le palme. E non sono gli unici fusti di palma che possiamo trovare qui. Intanto, percorrendo questo luogo sulla direttrice dell'antica strada per Morigino, da Mai a Morigino, notiamo ancora altri rifiuti. Questi sono cocci di vetro e poi troviamo tracce anche di pneumatici bruciati qui nelle campagne, disperdendo sostanze tossiche. Cumuli di macerie. Non so se queste immagini riescono a rendere l'idea, perché sono anche mimetizzati dall'erba, che nel frattempo è cresciuta. Qui vediamo altri fusti di palma, solo tre, svuotati dalle larve del punteruolo rosso e abbandonati qui, in questi luoghi. Ci sono anche elettrodomestici, frigoriferi. Qui ne vediamo altri, altri frigoriferi. E poi pneumatici. Eccoli qui. Questi sono pneumatici abbandonati. Ma proseguiremo. Oltre questa strada andremo ancora, percorreremo un tratto di 400 metri, fino alla Copersalento, in direzione nord, e vedremo cos'altro è stato abbandonato in questi luoghi.